Vittoria senza se e senza ma nella 52esima edizione del Rally Coppa Città di Lucca. Rudy Michelini con alle note perna vince con la Ford Fiesta WRC imponendosi in tutte le sette prove speciali disputate nell'intensa giornata di gara. Iniziata sabato pomeriggio con un inconveniente sulla prova di San Rocco, troppe auto parcheggiate male dagli spettatori e dunque prova cronometrata annullata. E così si parte dalle Pizzorne, poi finalmente San Rocco e infine Cune. Sin dai primi chilometri si capisce che non ci sarà storia. Il favorito Michelini vince prova su prova e agli avversari non resta che darsi battaglia per il podio. Al secondo posto, a oltre due minuti da Michelini, ma al termine di un bel rally, la coppia Panzani-Balducci sul Ford Fiesta R5. Distaccati di 30 secondi, Lenci-Farnocchia su una Peugeot 306 Maxi. Per Michelini si tratta del settimo sigillo al Città di Lucca, davvero un record. Questo rally potevo solo sfigurare, perché diciamo che si partiva con WRC rispetto all'R5 e già questo ci dava un vantaggio. Poi gara di casa, la conosco ormai benissimo, però arrivavamo da un periodo non tantissimo fortunato. Quindi, poi visto anche l'anno scorso come è andato la Città di Lucca, avevamo un po' di timore di non arrivare. Finalmente la sfortuna è andata, abbiamo fatto una gara senza nessun problema, abbiamo provato qualche tipo di regolazione da set. Poi abbiamo messo delle gomme dure sull'ultimo giro, anche se era da usare delle morbide, però solo per in visione dei prossimi rally. Poi un arrivo così veramente se lo possano penso sognare in tanti rally, tantissima gente, questo fa piacere. A completare le prime posizioni, Pedro Baldaccini su Hyundai i20 R5, poi Gasperetti Ferrari su Renault Clio R3T, Pinelli Tricoli su Ford Fiesta R5 e al settimo posto Pierotti Milli su Peugeot 208 VT.